Tavulia Vale, DJ Ralf! Grazie! Allora, ripeterei un bel applauso per questi due ragazzi che hanno suonato benissimo non vi so dire quanto io posso essere felice e orgoglioso di essere qua per un'occasione come questa per cui grazie di essere in così tanti siete qua per altri motivi però io cercherò di farvi divertire attenzione iniziamo 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 Grazie a tutti.